Ho l'infame e mi fa secco, oggi mi svecca. Chi è l'infame? Quella di matematica, mi chiede l'H. Ma quale H? Si dice altezza. E poi la matematica la dovete studiare da sempre, non da ieri. Vieni là, potete fai comprare qualcosa di più tranquillo? Paolo, lascia stare, tra poco verrà la donna. Si, viene, si guarda intorno e se ne arriva. Oh, mi scappa, faccelo un attimo, dai. Tutte le mattine ha la stessa storia, eh? E se l'infame mi becca, che faccio? Me la faccio sotto. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Ci vediamo dopo. Perché tu non vieni? Ho preso un'ora di permesso, ho delle commissioni da fare. Ciao. 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 Filippo. Ciao. Amore, tesoro, ti sei spaventato? Qui con Lavinia si diverte tanto. Ha sentito? Qui ci si diverte. Lavinia è una nostra lungodeggente, praticamente di casa. Rassicura anche i bambini più spaventati. Comunque è bene che Filippo resti ancora qualche giorno, voglio essere tranquillo. Caposala. Amore, mamma torna subito. Sei tranquillo. Guardate. Quello non ricovera i bambini malati, ma tiene chi non ha bisogno di cure. Quella è la madre che vuole curare. Beh, sorella. Ma che sorella, sorella, sorella. Sarò anche sorella, ma mica sono scema.